incredibile incredibile ma vero non ci sarà nessuna demo per fifa 21 l'ho annunciato questa mattina ea sports con un comunicato non stiamo rilasciando una demo per fifa 21 abbiamo preso questa decisione stiamo facendo il meglio se stiamo lavorando per il gioco completo per fornire una grande esperienza di gioco sia sulle generazioni di console correnti xbox one playstation 4 e sia per le console next generation questo significa che l'unico modo l'unico modo per provare in anticipo fifa 21 sarà i play ovvero ovvero il sistema in abbonamento che dà la possibilità di giocare a vari titoli di electronic cards e che vi dà modo di provare anche il gioco completo stiamo parlando di fifa 21 in gioco completo dieci giorni prima dell'uscita quindi dovrebbe essere il 30 settembre visto che fifa 21 esce il 9 ottobre quindi lo ribadisco per l'ennesima volta nessuna demo per fifa 21 potrete provare solo il gioco completo tramite i play ed un consiglio che vi do molto spesso mi arrivano messaggi privati in cui mi si dice ma su quel sito hanno scritto che su quell'altro sito ecco quelle quelli quegli annunci che comunque è scritto dovrebbe uscire dovrebbe arrivare usano il condizionale anche questi siti però sono forme di comunicazione che servono per essere indicizzati su google per farvi appunto trovare quelle pagine ma lì non ci sono informazioni ufficiali noi lo facciamo sempre di ribadire che una cosa sono le informazioni ufficiali una cosa sono le ipotesi che i siti possono fare ma voi quando non leggete ufficiale io vi consiglio e vi raccomando di non prendere per oro colato le cose se non c'è scritto ufficiale oggi ve lo posso dire invece ufficiale non ci sarà nessuna demo per fifa 21 incredibile ma vero quest'anno veramente stanno succedendo cose strane ovviamente il covid ha una sua responsabilità ma di non vedere una demo per fifa 21 non me lo sarei mai aspettato vi saluto vi ringrazio per l'attenzione ci riaggiorniamo prestissimo su tutto ciao